Se l'iniziazione cristiana è la sinfonia, nel senso che è fatta da una serie di linguaggi, approcci, gesti e parole diverse, la comunità cristiana è l'orchestra che la suona. Vorrei provare ad approfondire appunto questo aspetto della comunità cristiana in ordine all'iniziazione cristiana dei ragazzi, ma di tutti, innanzitutto fondando, cercando di dare qualche motivazione del perché la comunità cristiana è così importante per iniziare la fede. E poi provare a sviluppare due passaggi. Da una parte mostrare come l'iniziazione cristiana, la comunità, fa la catechesi, da una parte, e dall'altra come la catechesi, l'iniziazione cristiana, costruiscono la comunità. Il perché innanzitutto? Il perché possiamo provare a comunicarlo a partire dalla struttura narrativa e storica del simbolo della fede. Un autore francese fa notare come, se letto dall'inizio alla fine, il simbolo della fede è il racconto della vicinanza di Dio all'uomo, padre, figlio, spirito, credo la chiesa, amen. Nell'ordine della scoperta, questo simbolo della fede, cioè nell'ordine inverso, ripercorso dalla fine all'inizio, il simbolo della fede ci offre la mappa di come si può diventare credenti. E in questo senso, all'esposizione della vicinanza di Dio all'uomo, corrisponde, appunto letto al contrario, la possibilità di accesso alla fede. Possiamo dire il nostro amen, il nostro sì a Dio, riconoscendo, conoscendo, incontrando la chiesa, comunità di credenti. Nella chiesa riceviamo lo spirito che ci fa figli nel figlio per andare incontro al padre. Già questo mostra la necessaria mediazione della comunità in un certo senso. Ancora più profondamente potremmo citare un testo della prima lettera di Giovanni che mostra come, che consegna meglio, che consegna alla chiesa il paradigma della comunicazione della fede e vedremo che il noi è strettamente necessario. San Giovanni comincia la sua prima lettera scrivendo così quello che noi abbiamo veduto, udito, toccato, dell'amore di Dio, noi lo annunciamo a voi. E poi continua, dice, perché voi siate in comunione con noi e ancora, e la nostra comunione è con il padre e il figlio. In qualche modo c'è un annuncio che nasce da un'esperienza profonda dell'amore di Dio e questo annuncio è portato da un noi, non da un io, il noi ecclesiale appunto, aperto verso un voi non ancora credente. E questo annuncio da parte del noi credente verso coloro che ancora non sono credenti è perché, dice Giovanni, voi siate in comunione con noi, ma noi siamo in comunione con il padre e il figlio. E quindi non è un aprire la comunione del noi ecclesiale per fermarsi lì, ma questa comunione del noi è fondata, si fonda ed è aperta sulla comunione trinitaria. In qualche modo ci consegna l'immagine di una comunità che sta in mezzo tra il voi non ancora credente e la comunione del padre e il figlio. Mi pare che questo possa in qualche modo offrire lo spunto per cogliere il perché la comunità e le relazioni comunitarie siano strettamente necessarie in ordine all'educazione e all'iniziazione alla fede. Sempre la fede nasce nel grembo di relazioni e sempre si diventa credenti non imparando delle dottrine, ma entrando a far parte di una comunità che crede e che vive la fede. Come dicevo all'inizio vorrei sviluppare due passaggi. Fondato il perché è provare a dire come la comunità faccia la catechesi, quindi la comunità sia il soggetto principale della catechesi, e poi dall'altra parte l'altro ramo di questa curva ipotetica, come la catechesi faccia, costruisca, trasformi la comunità. La comunità fa la catechesi. La comunità è il soggetto principale di questo annuncio. Il direttore generale per la catechesi dice che la comunità con tutta la sua vita è una catechesi vivente. Potremmo dire che il volto della comunità, l'esperienza comunitaria è il testo di catechismo, per usare questa immagine, è il documento di base per il rinnovamento della catechesi, nel suo numero 200 famoso, proprio da questo ordine di partenza tracciava l'agenda della Chiesa italiana, cioè ripartire dalle comunità. Prima ancora dei catechismi e dei catechisti stanno le comunità cristiane. Che la comunità sia soggetto della catechesi vuol dire che tutta la comunità, con tutta la pluralità dei carismi, fa l'iniziazione cristiana, è soggetto e contesto dell'iniziazione cristiana. E questo vuol anche dire che la catechesi è rimodulata, nel senso che non è più qualche cosa per addetti ai lavori, ma diventa obiettivo, diventa compito comune di tutta la comunità. Non più impresa individuale, ma un'impresa affidata, un compito affidato a tutta la comunità. Il secondo passaggio è invece la catechesi, l'iniziazione cristiana, fa la comunità. La catechesi, l'iniziazione cristiana, può trasformare la comunità in un senso innanzitutto primario, perché l'iniziazione cristiana permette un'esperienza di Chiesa e di comunità. E in questo senso diventa decisivo il volto accogliente o meno che la comunità offre di sé a coloro che si avvicinano domandando l'iniziazione cristiana. E in un senso più profondo, l'iniziazione cristiana può davvero trasformare e rigenerare il tessuto delle comunità. Mi riallaccio chiudendo al passaggio che abbiamo citato della prima lettera di Giovanni. Se è vero che l'annuncio verso il voi non ancora credente apre alla comunione con il noi credente, quel noi credente per ognuno dei nuovi arrivati è trasformato, è nuovo, è reso speciale, unico dall'arrivo anche fosse di una sola persona. È un noi che cambia, è un noi che si trasforma. La voce della comunità, la sinfonia della comunità si amplia di una voce nuova, diversa, unica, qual è la vita di ciascuno di noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.